allora io direi che possiamo pullare e direi di poter iniziare e dire di poter iniziare da da vivi visto che comunque vivi mi manca anche la bt c'è divini manca la bt divini manca la bt e me la sono chiamata divini manca la bt e me la sono chiamata incredibile incredibile di vivi mi manca la bt e me boom incredibile incredibile magari un'altra bt e non è detto che sia vivi e potrebbe essere un'altra bt no ok eccolo incredibile incredibile in che c'è proprio una pull di merda comunque c'è proprio totalmente di merda però la bt di vivi ma le fr di vivi ce l'ho mi sa che forse le ferie di non ce l'ho sapete ora ora che ci penso io mi sa che le ferie di vivi non ce l'ho non c'ho manco la fr di vivi credo che non ce l'ho la fr di vivi ora che ci penso dicendo che cioè volendo la fr di vivi può uscirmi anche qua quindi intanto andiamo col free tx una bella questa cosa era la 15 forse diamito si allora andiamo anche qua con ok sarebbe stato un po un po esagerato effettivamente doppia bt dalla fr di sarebbe stato un po esagerato effettivamente sarebbe stato sarebbe stato decisamente esagerato decisamente esagerato una bella fr no va bene flauto normale di dius va bene qui mi sa che ci sta la bettina scommessina qui qui mi sa qui mi sa scommessina va bene vediamo vediamo chi ha ragione se escono tutte e due è un casino è il problema è se escono tutte e due se escono tutte e due è un bordello spero che non succeda giusto però va bene alisee vivi incredibile incredibile vivi che vince il sondaggio vince il sondaggio e ho il full kit di vivi tra l'altro un kit che non me ne faccio niente perché non me ne frega un cazzo in realtà però va bene però va bene ho detto che mi mancava quindi lo accetto quindi lo accetto va bene ottimo vivi va bene vivi e mi sembra bruttino eh sì quest'altro ticket bruttino eh orbo dorata beh oddio orbo dorata potrebbe essere potrebbe essere interessante però eh no niente troppa roba che sta uscendo l'ex di mua lolita di alisee ma li ticket ho? no troppo pochi basta no 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 ne spendo ticket per sto cesso no 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 Grazie a tutti.